Padoa Schioppa Studiare misure per alleggerire il peso dei mutui Dopo il progressivo aumento dell'importo delle rate, è possibile stabilire una serie di misure per alleggerire il peso dei mutui. Lo ha detto il Ministro dell'Economia, Tommaso Padoa Schioppa, nel corso di una trasmissione RAI. In questo momento, ha sottolineato Padoa Schioppa, l'aumento degli oneri per chi ha fatto un mutuo è molto pesante e c'è una difficoltà che deve essere superata in qualche modo. Non credo tuttavia che un intervento si possa fare a spese dei contribuenti che il mutuo non l'hanno fatto, ma spero che l'associazione bancaria possa studiare qualche soluzione per risolvere il problema mutui. Grazie Grazie Grazie